Musica Problemi vecchi, disagi nuovi, carenze sempre le stesse. Torna l'erba alta in Viale Aldomoro a Torre del Greco. Dalle immagini delle telecamere di TV City di questa mattina, il marciapiede sul lato destro della carreggiata, salendo dall'incrocio di Corso Vittorio Emanuele, è decisamente impraticabile per la presenza di erbacce con cespugli su entrambi i lati. Camminare per i pedoni è diventato nuovamente difficoltoso. Un problema dunque che si ripropone a distanza di mesi e che ha riguardato tutte le zone della città, dal centro alla periferia, con innumerevoli lamentele e polemiche. Con il piano di Serbo, il Comune aveva provveduto a rendere decoroso il marciapiede a Viale Aldomoro nel mese di maggio, dopo denunce e sollecitazioni dei cittadini anche attraverso le nostre telecamere. Ma a giudicare delle immagini di questa mattina, la questione si ripropone. Diverse strade dunque sono di nuovo sporche e piene di erbacce.